Gian Stefano Dera, sindaco di Castelvittorio, uno dei nostri borghi più incantevoli di questo ponente. Allora un anno che si chiude, un altro che sta per aprirsi. E qual è un po' il bilancio, il punto della situazione per Castelvittorio? Per Castelvittorio quest'anno si conclude abbastanza bene, nonostante gli ultimi avvenimenti dell'ultimo mese di novembre, perché purtroppo anche noi come tutta la provincia, ma si può dire tutto il ponente e Ligure ha avuto questo problema di un ennesimo evento alluvionale. Anche noi come altri comuni abbiamo avuto i nostri problemi, che però siamo riusciti, questo ne approfitto per ringraziare comunque la provincia e la regione che ci sono stati vicini, ma soprattutto anche i nostri problemi con cittadini che si sono dati da fare per cercare di limitare i danni e di cercare di tornare alla normalità al più presto possibile. Quindi nonostante questo sono orgoglioso di poter dire che Castelvittorio chiude un anno sereno. Abbiamo avuto le nostre manifestazioni soprattutto estive, naturalmente noi abbiamo il famoso turtun, il piatto tipico di Castelvittorio che si freggia dalla deco comunale e che si fa la prima domenica d'agosto con una grossa festa. Poi abbiamo un bel evento che si articola nel mese di luglio con dei concerti di musica classica fatti all'interno del paese, nelle nostre piazze suggestive di sera. Quindi quest'anno sono molto contento perché hanno avuto molto successo e quindi alla chiusura dell'anno è un invito per ritrovarci il prossimo anno a Castelvittorio con i nostri esercizi commerciali che nonostante essendo un piccolo comune di montagna noi siamo circa 300 abitanti ma molto uniti, abbiamo degli esercizi commerciali, abbiamo quattro ristoranti, la gente viene volentieri e vi aspettiamo naturalmente per il prossimo anno, per il 2020.